Il S3 Crossback è il SUV tecnologico che sarà il secondo modello della nuova generazione di S. Il S3 Crossback vedrà un accompagnamento con tre eventi nazionali, oggi Milano e a seguire Roma e Napoli e 21 tappe locali per scoprire insieme di S3 Crossback, icona di stile i-tech. Credo di avere una personalità grintosa, o almeno così mi definisco, e quindi l'ADS è molto simile a me. Durante il tour Spirit of Avantgarde porteremo in giro e faremo conoscere il S3 Crossback, il nostro nuovo SUV compatto, icona di stile i-tech. Il S3 Crossback raccoglie design e tecnologia di assoluto livello, in anteprima su questo segmento. Tecnologie come i DS Matrix del Vision che permettono di viaggiare sempre con il massimo del fascio luminoso senza mai disturbare gli altri utenti della strada. O le maniglie delle portiere a scomparsa che danno un design pulito e scultoreo al nostro SUV compatto. Grazie a questo tour quindi faremo conoscere a tutti lo Spirit of Avantgarde di DS Automobile anche attraverso questo nuovo modello DS3 Crossback che verrà lanciato in tutta Italia. Grazie a tutti.